Only Murders in the Building. Io sono Charles A. Che diavolo succede? Dan Savage. Puoi prenderlo e unirlo a Charles A. Certo, userò l'aggiuntatrice. Uno studio di Hollywood vuole girare un film sul nostro podcast. Questo copione è meraviglioso. Oliver volteggia per la stanza un setuagenario Peter Pan o un campanellino al maschile. Io non cammino in quel modo. Ok, podcaster. Abbiamo un cast favoloso. Voglio Gene Levy. Sono Eva Longoria. Oliver, lui è Zach Galif... Sì, Zach Galifragilistica, naturalmente. Il sottoscritto ha recitato nella seconda commedia col maggior incasso di tutti i tempi. Sei il bambino di mamma ha perso l'aereo? Oh, come ti hanno ridotto! Ci hanno suggerito di seguirvi per un giorno per studiare i personaggi. Senti, ci teniamo proprio al nome Maple. Direi di sì. Putzanelle! Andiamo ad Hollywood! Oh, mio Dio! Sais! C'è stato un altro omicidio. E vai! Chi la voleva morta? Sono davvero tanti sospettati. Speriamo di poter fare qualche domanda. Non ho niente da dirvi. Allora forse questo ti scucirà la bocca. Puoi cambiarmeli? Ti do 20, mi dai il resto di 15? Possiamo darti una mano. Gli attori sono investigatori, lo sai? Ricorda chi il cecchino mirava al tuo appartamento. Pensate che l'obiettivo fossi io. Ci serve un posto sicuro. Da tua sorella a Long Island. Guarda che ha finalmente deciso di venire. Conosco la tua voce grazie al podcast. Ma se vuoi un consiglio, ogni tanto rallenta. Usa una voce più profonda. Poi rallenta di nuovo. E poi torna ad accelerare. Wow! C'è un assassino là fuori. Dobbiamo concentrarci. Ora subentriamo noi. Ah sì? E credete di farcela? Non siamo dei bambini. Ti dispiace aprirmi questo pacchetto? Il mio assistente non c'è.